Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale oggi, come avete detto dal titolo, vi porto la review definitiva e la guida completa al giocatore che è più amato quest'anno, il buon Sir Kenny Dalglish l'unico e il solo e inimitabile in maniera tale da andare un po' a fugare quelli che sono i vari dubbi tra chi è meglio, il baby, il mid, il prime, il prime moments quali sono le varie differenze che ho riscontrato andando ad utilizzare questi vari giocatori che ho provato in tutte le sue forme e in più quali sono i suoi aspetti peculiari per quanto riguarda punti forti, punti deboli, eccetera, eccetera, eccetera direi di partire col baby e ovviamente vi andrò a dare il giudizio finale al termine dell'analisi di ogni giocatore altrimenti vi spoilererei tutto, il video durerebbe un minuto andiamo ad analizzare quindi la versione 87 come potete vedere, 1,73 m, alto, normale piede destro, mosse abilità 4, piede debole 5 quindi assolutamente un giocatore in meta alla perfezione quest'anno perché ha 5 di piede debole una delle caratteristiche che reputo imprescindibili quest'anno anche un ottimo work rate e una buona altezza che andiamo a vedere abbinata poi alle statistiche gli permette di girarsi in maniera impeccabile velocità 89,86 non è un fulmine di guerra di conseguenza se andate ad utilizzare moduli come ad esempio il rombo dunque due punte che spesso e volentieri lanciate in profondità con filtranti, lanci lunghi eccetera Dalglish non è il giocatore che fa al caso vostro Dalglish è un giocatore che si sposa alla perfezione con uno stile di gioco improntato tanto sul possesso palla per arrivare a servire una delle due punte che sarà sicuramente lui o anche una punta nel caso del 4-2-3-1 e per poi girarvi rapidamente o con un drag back o semplicemente con la lavetta analogica sinistra e tirare con destro e col sinistro avendo la certezza che non farà differenza per lui Per quanto riguarda posizionamento d'attacco finalizzazione, potenza tiro, tiri di stanza, volo e rigori sono tutte quante statistiche ottime in particolar modo finalizzazione e potenza tiro che come potete vedere sono 91,85 e questo a mio modo di vedere lo collocano sopra Cruif ad esempio il quale ha una bassa potenza tiro soprattutto per quanto riguarda le versioni baby e mid ma anche la prime se non erro 84 quindi quando mi chiedete meglio Cruif o Dalvish da punta assolutamente Dalvish ad esempio poi passaggio corto e lungo carenti e questa è una delle cose che più vi preoccupa quando mi parlate di Dalvish ragazzi ma noi stiamo parlando di una punta il cui unico obiettivo è finalizzare al massimo andrà a scambiare con l'altra punta quindi si tratta di passaggi ravvicinati che solitamente Dalvish non sbaglia infatti dopo vi andrò a far vedere le statistiche del mio e commenteremo insieme agilità 93, equilibrio 88, reattività 89, controllo palla 88, freddezza 85, dribblico 88 rendono Dalvish un giocatore super agile veramente come pochi pochi ho provato quest'anno veramente io sono innamorato di lui e Butraghenio al quale forse poi dedicherò un video successivamente vabbè statistiche di difesa non ci interessano statistiche di fisico la resistenza è la cosa che diciamo più ci può andare a interessare 84 ci permette di arrivare sicuramente fino a fine game con il buon Kenny per quanto riguarda i traits abbiamo tiro da fuori, tibblatore, tiro da esterno eccetera ma nonostante ciò il tiro a giro del buon Dalvish è un tiro a giro veramente letale ho avuto modo di testarlo perché lo sto utilizzando da inizio anno il giocatore che conosco di più questo qui ha anche un grandissimo tiro a giro questo per quanto riguarda la versione Baby passiamo alla versione Mid che ovviamente per quanto riguarda queste cose è identico ma un parametro che voi non vedete qui ma che si vede su Foodbin è che questo Dalvish inizia a pesare 2 kg in più del Baby e voi direte beh che ci frega no ci frega perché questo qui ha un body type differente per quanto riguarda le statistiche abbiamo un boost in velocità che non è eccessivo di conseguenza come prima moduli diciamo dove lanciate in profondità le punte sconsigliato per quanto riguarda la finalizzazione siamo lì abbiamo un piccolo aumento della potenza tiro dei rigori eccetera agilità, equilibrio e reattività vediamo parametri più alti ma ragazzi questo non si traduce in maniera automatica in cavolo questa versione più agile assolutamente no perché come vi ho detto quei 2 kg in più si fanno sentire questo qui non si gira come il Baby e anzi vi dirò di più io l'ho trovato anche meno clinical rispetto al Baby a me è sembrato che si cagasse più goal inoltre vedete anche una riduzione nella resistenza 81 che in linea di massima non vi dà problemi ma è comunque al limite è quasi nel verdino chiaro non nel verde pieno per quanto riguarda il Prime siamo sempre sullo stesso discorso qui tutto uguale ma abbiamo sempre quei 2 kg in più che si fanno sentire abbiamo un lieve boost di velocità che comunque anche in questo caso secondo me non giustificano il suo utilizzo in un modulo dove giocate a lanci lunghi sulle punte abbiamo un boost di finalizzazione potenza tiro sì in questo caso abbiamo anche qui aumento di agilità, equilibrio e reattività che però non si vanno a tradurre in maggiore agilità in game attenzione non mi fraintendete perché come anche dal Grish Mid il Prime si gira non è che non si gira anzi è sicuramente uno degli attaccanti più validi ripeto che ho provato quest'anno ma il confronto col Baby anche per quanto riguarda la differenza in termini di prezzo secondo me non giustifica la spesa perché è vero sì che comunque io questo probabilmente assieme al Prime Moments è quello che ho trovato un po' più finalizzatore però rispetto a una precisione realizzativa del 95% preferisco comunque dal Grish Baby che magari finalizza al 90% ma si gira in maniera molto più veloce ragazzi io vi assicuro abbiamo qui un nuovo boost della resistenza abbiamo anche un boost dell'aggressività insomma che poco ci interessa venendo al Prime Moments invece qui solita questione e abbiamo sempre quei due famigerati chili in più qui abbiamo un aumento significativo della velocità magari questo in un rombo potete utilizzarlo anche se oltre alla velocità è penalizzato al Body Type perché magari in un rombo le due punte è meglio che siano una punta alla Cristiano Ronaldo alla Mbappetotica e magari se ne vanno anche in velocità per quanto riguarda la finta di tiro quella di prima questo avendo un Body Type piccolino non lo prende campo abbiamo un boost di finalizzazione potenza tiro incredibile agilità 93, 92, equilibrio, reattività 96 freddezza 93, resistenza 88 questo qui è quello che mi è piaciuto di più dopo il Baby quindi state capendo che ormai il mio giudizio verte verso una certa versione per quanto riguarda qui abbiamo come traits, classe, tiro da fuori, tiro da esterno eccetera eccetera ma questo qui ha un tiro a giro che secondo me è migliore rispetto a tutte le altre versioni perché ok vi ho detto il Baby ce l'ha ok ce l'hanno anche gli altri ma questo non ha il traits ma vi assicuro che sembrava che sembrava averlo però andiamo a parlare di un giocatore che comunque poco non costa ragazzi c'è un giocatore che costa 3 milioni che non sono, non sono assolutamente pochi perché per quella cifra vi andate a prendere il Baby che costa praticamente sotto il milione un milioncino scarso e il Baby per tutte le ragioni che vi ho esplicato risulta essere la versione migliore è quella che sto utilizzando di fatto vi faccio andare a vedere quelle che sono le statistiche del mio Dalglish che ho ripreso da un po' quello Baby ovviamente vedete poche partite anche se io Dalglish ce l'ho dalla prima settimana di foot potete ammirare 253 partite 229 goal e 173 assist alla faccia di questo che non sa fare gli assist non sa passare il pallone vi ripeto tutto sta nell'andare a capire quali sono i suoi limiti e capire quali sono i passaggi che vi potete permettere con questa carta quindi ovviamente il giudizio finale è tutto quanto a favore del buon Candy Baby anche in relazione a quello che è il rapporto qualità-prezzo rispetto alle altre versioni ciò non toglie che comunque se avete tanti crediti che magari volete andare a spendere per una sua versione potete anche tranquillamente andare sul Prime Moments però io credo che quei due chili mancanti che ha questa versione si sentano veramente tanto in termini di agilità ed è quello che è il fattore che maggiormente fa pendere l'ago della bilancia a favore di questa versione quindi spero di aver risolto quelli che sono i vostri dubbi circa questa carta potete passare live su Twitch ragazzi tutti i giorni per ammirare le gesta di Sir Kenny e vi do appuntamento a un prossimo video Peace